carissimi fratelli e sorelle amici cari pace del signore buona giornata a tutti quanti voi 22 aprile 7 del mattino leggiamo con l'aiuto del signore nel libro dei profetti 6 al capitolo 9 al verso 5 dove è scritto perché un bambino c'è nato un figlio c'è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle sarà chiamato consigliere ammirabile dio potente padre eterno principe della pace in questo verso molto bello dove ci viene presentata la l'umanità e la divinità di cristo un bambino c'è nato e un figlio c'è stato dato ci vengono presentati anche degli appellativi riguardanti cristo e quello su cui mi vorrei soffermare l'ultimo letto vale a dire principe della pace in che modo combattiamo lo stress un articolo di una rivista consiglia di ripetere una frase come un mantra ad esempio sono in pace con me stesso e con il mondo sono in pace con me stessa e con il mondo sono in pace con me stessa e con il mondo così a furia di ripeterla almeno per cinque minuti e concentrandosi su di essa la pace secondo questa rivista dovrebbe cominciare a fare capolino dentro i nostri cuori personalmente dubito che un tale procedimento possa produrre un risultato duraturo invece nella parola di dio ci viene detto qualcosa di diverso e cioè che la pace non è frutto della ripetizione di una frase in modo meccanico ma è una conseguenza del fatto che colui che il principe della pace abita dentro i nostri cuori la bibbia ci insegna che per la disubbidienza ad ammedeva hanno perduto questa pace che dopo aver trasgredito l'ordine di dio hanno avuto paura e si sono dascosti ma dio non li ha odiati e nonostante essi si siano resi i suoi nemici dio ha cominciato e continuato a cercarli fino a quando non li ha trovati e questa ricerca che dio fece di ad ammedeva è la ricerca di dio fa di ogni uomo e di ogni donna attraverso l'evangelo che viene annunziato in tutti i modi possibili e immaginabili anche tramite questo semplice podcast che questa mattina stai ascoltando e allora il signore ci aiuti affinché possiamo accettare l'invito che dio ci offre di andare a lui per poter ricevere la pace gesù disse voi tutti che siete affritti e attravagliati venite a me e io vi darò riposo questo riposo che è strettamente correlato alla pace non è dunque frutto della ripetizione di frasi che dovrebbero conquistare la nostra mente quindi facci riavere quello che abbiamo perduto ma è una conseguenza dell'avere colui che è il principe della pace e che può veramente dare certezza al cuore degli uomini la presenza di dio quindi è qualcosa di straordinario perché rende la vita dell'uomo diversa diversa da quella che può essere vissuta senza di lui gesù quando venne messo in croce e venne poi imposto sulla tomba lasciò i suoi discepoli nello sconforto nello scompiglio nella disperazione nella paura li troviamo rinchiusi dentro una stanza intimoriti di quello che poteva succedere alla loro vita ma gesù non è morto soltanto egli è anche risorto e una volta risorto una delle cose che fece fu proprio quello di andare dai suoi discepoli di entrare a porte chiuse e di dire loro pace a voi ecco perché ogni mattina quando inizio queste brevi riflessioni mi preoccupo di dire pace a voi e questa pace spero che possa veramente abitare nella vostra vita e se questa pace non c'è sappi che cristo è quella che la può dare stamattina è lui che vuole entrare nella stanza del tuo cuore e dire pace a te e la pace che il signore da non è come la pace che si può ricevere ottenere in questo mondo perché è una pace duratura che non dipende dalle circostanze che non dipende dal fatto che le cose vanno bene ma dipende dal fatto che cristo vive in noi cerca questa pace nella tua vita non ricercare altre cose non ricercare strategie stratagemmi psicologici ricerca la vera pace che è cristo gesù che vive dentro il tuo cuore e questa pace sarà una pace che non verrà meno neanche di fronte alle situazioni più avverse perché nelle situazioni più avverse saprai che colui che ha creato il cielo e la terra l'onnipotente al tuo fianco e questo ti darà serenità un po come quella bimba che si trovava su un aereo dove tutti gridavano ed erano impauriti perché a causa dei vuoti d'aria sembrava che l'aereo stesse per precipitare tutti gridavano tutti e non sapevano a chi rivolgersi questa bambina invece era serena tranquilla al suo posto e il signore che era a fianco la guardò pensando forse non si rende conto di quello che sta succedendo e le disse ma non hai paura e la bambina lo guardò e gli disse no perché dovrei avere paura come sembra quasi che stiamo per precipitare non ti rendi conto di quello che sta succedendo no io non ho paura sa chi è colui che sta guidando quest'aereo e quell'uomo gli disse beh sì il pilota ma sa chi è il pilota il pilota il mio papà e fin quando ci sarà lui a guidare quest'aereo io sono serena tranquilla perché lui non permetterà che mi accada nulla di male e quell'uomo la guardò e rimase sbigottito e forse anche noi pensiamo che sia la semplicità di questa bimba a spingerla a dire queste parole probabilmente ridiamo di questa semplicità ma spero che anziché ridere prendiamo esempio affinché nella nostra vita quando l'aereo della nostra esistenza sembra quasi essere sballottato dai problemi noi possiamo continuare a rimanere sereni sereni perché sappiamo che colui che guida la nostra vita è il nostro padre celeste e lui non permetterà che nulla di male ci accadrà ma questo è possibile solo se colui che il principe della pace abita dentro i nostri cuori oggi non so quello che ci prospetterà la vita non so quello che può accadere ma in tutte queste cose so che c'è la possibilità di vivere nella pace se cristo in noi e se la nostra fede è rivolta verso di lui perciò fratelli sorelle amici cari confidiamo nel signore e permettiamo alla sua pace di non dare i nostri cuori che dio ci benedica e ci accompagni con la sua presenza grazie a tutti